I fenomeni di risagio, l'indebolimento dei paesi in via di sviluppo stanno diventando sempre più difficili da gestire. Esiste un'opportunità, la tecnologia. Tre fondazioni in sinergia, Cariplo, Compagnia di San Paolo e CRT, stanno lavorando a realizzare una piattaforma che sfrutti l'opportunità della tecnologia per le organizzazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo. Il progetto Innovazione per lo Sviluppo punta in una prima fase a realizzare una piattaforma che consenta di fare formazione, capacity building, sperimentazioni. In una seconda fase verrà lanciato un bando, anche con un budget importante, perché quello che è stato appreso dalle organizzazioni si traduca in progettualità. L'obiettivo del progetto è offrire quello che oggi la tecnologia ha maturato in altri settori, perché da questo trasferimento possano nascere opportunità importanti di crescita, di rafforzamento, ma anche prototipi progettuali, piattaforme di open innovation e quindi nuovi contenuti relativamente a basso costo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!